Spottler è un sistema che racchiude più mezzi di comunicazione e che le permetterà di acquisire nuovi clienti e mantenere quelli attuali diversificandosi dalla sua concorrenza con importanti benefici per la sua attività. Spottler è presente nella sua zona con degli schermi posizionati in locali commerciali visitati da centinaia di persone ogni giorno. I terminali, con un design elegante, attirano gli spettatori grazie a servizi di interesse, oroscopo e meteo, e notizie aggiornate in tempo reale. Crediamo di non sbagliare nell'affermare che anche lei, come molti imprenditori e professionisti nella sua città, desidererebbe avere più clienti paganti, avere più visibilità per la sua attività. Spottler potrà renderla visibile finalmente a decine di migliaia di potenziali clienti ogni mese, aumentando la sua notorietà, portando le clienti nuovi, fidelizzando gli attuali. La pubblicità su Spottler è efficace perché le permette di contattare le persone giuste che potranno veramente acquistare i suoi prodotti e servizi perché sono in prossimità della sua attività. Perché spendere in pubblicità con i soliti mezzi costosi e poco flessibili contattando anche persone che sappiamo in partenza non si recheranno mai da lei? Spottler ha una programmazione minima garantita di almeno 10 ore giornaliere. Trasmette informazioni giornalistiche, previsioni del tempo, oroscopo ed un palinsesto di video e programmi che si arricchiscono ogni giorno e lei ha la possibilità di essere inserito in questa ricca programmazione ogni ora fin da subito. La sua inserzione sarà pubblicata numerose volte ogni ora per essere vista da centinaia di contatti che si trovano in prossimità dello schermo. Trattandosi di pubblicità di prossimità è necessario stabilire i prezzi dei prodotti e o servizi che intende spingere, fare delle promozioni interessanti o applicare degli sconti che le serviranno anche solo una tantum unicamente per portarle nuovi clienti. L'angolo delle occasioni Spottler diventerà la sua vetrina dinamica ed efficace. Con l'aiuto di un nostro concessionario potrà creare facilmente un messaggio vincente che l'aiuti a vendere ciò che ha di invenduto o aumentare le vendite di ciò che desidera. Creare l'inserzione è molto facile e non sarà mai solo nel farlo. Il nostro concessionario di zona, un professionista molto serio e preparato, si occuperà di lei dal primo contatto, alla stesura del messaggio promozionale idoneo per farle raggiungere sempre più risultati. I suoi risultati sono i nostri risultati. La pubblicità Spottler è interattiva. Potrà cambiare il suo messaggio ogni volta che lo desidera e senza perdite di tempo. Non dovrà aspettare giorni per le modifiche o per la pubblicazione delle inserzioni. La sua pubblicità potrà essere visibile immediatamente e senza costi aggiuntivi. Inoltre potrà variare le immagini dei prodotti, servizi e offerti completamente a suo piacimento, proprio per far visionare agli interessati i dettagli che desidera comunicare. Foto di più stanze di una casa oppure di una macchina, interni più esterni eccetera, foto di vari prodotti anche a rotazione eccetera. Grazie ad un sistema brevettato, Spottler le consentirà di conoscere anche il numero di contatti medi presenti nelle location dove sono posizionati gli schermi. Basta investire su contatti presunti e il concessionario Spottler le fornirà una rendicontazione completa con l'orario di uscita, i giorni e i luoghi di visualizzazione. Questo le permetterà di verificare la sua messa in onda e avere il relativo rapporto. Con Spottler avrà la certezza di essere visto. Spottler le diversificherà la campagna. Ha la possibilità di uscire anche con semplici annunci di testo, di essere pubblicato in un magazine, sui siti internet tematici, di apparire in tv su canali tematici Sky, di partecipare a concorsi a premio e molto di più. Se fosse interessato a farsi promozione direttamente nel suo locale, oltre che promuovere la sua attività sui terminali posizionati presso altri esercenti, potrà installare una singola unità Spottler nel suo negozio col sistema vincente Spot Guardian. Lei ha oggi la possibilità di farsi vedere da migliaia di persone interessate ai suoi prodotti che potranno acquistare facilmente e velocemente da lei perché è nella sua zona. Al costo di una colazione al giorno può fin da subito avviare la sua campagna pubblicitaria. Non si lasci scappare questa occasione, decida subito. Il nostro concessionario le spiegherà come iniziare a beneficiare dei numerosi vantaggi del mondo Spottler. Vantaggi che non può farsi scappare. Non lasci che siano i suoi concorrenti a sfruttare al suo posto questa opportunità. Cominci oggi stesso e buon inizio!